Buongiorno a tutti ragazzi da PokerStarter3, seconda parte di questo strepitoso box di XY Slashfire se non avete visto la prima parte vi consiglio caldamente di andare a vederla, il link sarà in descrizione o da qualche parte qui bene, non so cosa riuscirò a trovare in questa parte avendo trovato il mondo nell'altra vabbè partiamo mai dire mai, vediamo codice dunque Pokémon Fun Club Crocorock Furfrù Duskull Litlio Sprizzi Shinx Stanci La Reverse in Litlio sono veramente belle le Reverse di fuoco e la rara è uno Scantank andiamo avanti si sfaldano queste bustine non provo neanche a salvarle codice dunque Roserade Lissandra Silio Sneasel Panko Scregi Shinx Screlp Screlp La Reverse è un Forretress che è anche rara ottimo e la rara è un Iliolisk Roserade Roserade Starling Megafon Torcol Caterpie Sfil Sfil Binnacle Espor Gumi La Reverse è uno Sprizzi e la rara è un Durant 12 Veramente la scorsa parte è stata incredibile spero che non sia a riscatto di questa che non si trovi proprio niente però vediamo Sligu Metapod Graveler Binnacle Sprizzi Sfil Bu Neri Helioptile La Reverse bellissima Dradigon Holo Reverse e la rara è un Barberacle Sacred Ash Sacred Ash Fletchinger Trick Shovel Roseria Stanchi Flabebe Geodud Fibas La Reverse è un Espor e la rara è appena trovato Reverse Dradigon Holo ottimo mettiamolo qui non starà mai su facciamo così così codice Metapod Metapod Smisol Avalog Sendail Litlio Duskul Roselia Stanchi la Reverse è un Metapod e la rara è uno Scrafty codice Pulped Silio Magnetic Storm Stanchi PG C-Dot Sendai Shinx la Reverse è un Buizel e la rara è un Meowstic parte tranquillissima davvero fino adesso Trick Show Intanto ragazzi ho visto qualcosa Love Disc potrebbe essere la mia prima ex di questi due box Pokémon Center Lady ex normale Flabebe Scraggy Screlp C-Dot Smizzle la Reverse è uno Scraggy e la rara è uuuuh eccolo qui Charizard ex ottimo veramente ottimo molto bella tra l'altro questa carta veramente bella mettiamo qui no ok andiamo avanti quindi ottimo una ex ed è anche un Charizard codice Startling Megafon Floette Protection Cube La Bebe Scraggy Screlp C-Dot Smizzle la Reverse è un Shinx e la rara è un Flozzel io azzardo mi piacerebbe trovare un Lissandre Full Art così dato che negli scorsi video avendo chiamato le carte che volevo sono arrivate perché no forse un po' troppo pretenziosa anzi sicuramente tg8 laxio fletchinder sidot sprizzi buizel binacle ponita fletchling reverse e la rara è ottimo un card in colo e questa carta mi piace moltissimo ottimo colcce maractus segredes dasclops litlio centret helioptile slabebe pigi la reverse è un Graveler e la rara è quasi ragazzi c'ero molto vicina pokemon center lady full art incredibile che box ragazzi qual è il box migliore che abbia mai aperto in assoluto bellissimo incredibile la mettiamo qui in mezzo e ci mancano ancora comunque uno due sette pacchetti potrei ancora trovare qualcos'altro palpad torcol miltank geodud caterpie gumi roselia bergmite sender reverse e la rara e la rara è dusk noir holo ottimo mettiamolo qui boss veramente fantastico codice codice magnate storm sileo pokemon fan club bergamite caterpie pg helio hot pg8 pg8 raro river e la rara è un furret dunque, Floette Sacred Ash Miltank Ponita Sendai Buizel Buneri Caterpie La Reverse Undurant E la rara è Mylotic Olo Bellissimo questa carta Certo qui Va giù tutto Togliamo le Olo Lasciamo queste due Mancano ancora Quattro pacchetti Codice Beh, penso che sia finito qua comunque tutto il ben di Dio che ho trovato PG8 Fiery Torch Roserade Helioptile Caterpie Buneri Sfil Tainco Sentre Traverse E la rara è un Floette Snizzle Magnetic Storm Avalog Fivas Fletchling Geodude Stanky Bergamite Bergamite La Reverse è un Painco E la rara è un Quillfish Penultimo pacchetto di questo fantastico box Codice Ultraball Ultraball Pulped Protection Cube Tre Trainer Fibas Sentret Painco Slabebe Duskull La rara è un Sfil Cioè scusate La reverse è uno Sfil E la rara è un Dragaggi Bellissimo E l'ultimo pacchetto Vediamo se c'è la magia dell'ultimo pacchetto Non penso Ultraball Fletchinder Nazli Duskull Litlio Sprizzi Shinx Stanky La reverse è un Trick Shovel Molto bella E la rara è un Lopanni Bene ragazzi Questo box è stato favoloso Io con queste due bellissime carte vi saluto E ciao ragazzi Alla prossima